Tanti nuovi negozi, tante emozioni in più. Lo shopping del Centro Legrange ti aspetta con ancora più scelta. Una grande galleria specializzata per i tuoi acquisti, con un ipermercato, 7 megastore e 50 negozi. Centro commerciale Legrange, a piedi Monte San Germano, sempre aperto, con orario continuato. Scopri tutti i negozi e gli eventi su cclegrange.it e seguici sulla nostra pagina Facebook. Legrange, shopping con più emozioni.